Ciao, sono Giacomo, Ronchi 78, locale storico del centro di Milano, nascita in 1898 dalla famiglia Ronchi, che lo fa diventare il primo wine bar italiano. Si trova in via San Maurizio 7, a due passi da Duomo, in un quadrillato di vie storiche denominato Le Cinque Vie. Il nostro locale è consigliatissimo per tutte quelle feste in cui volete divertirvi, quindi per il vostro compleanno, per il vostro dio nobilato, celibato, per la vostra festa e laurea, facciamo delle tavolate con dei menu fissi oppure mangiare alla carta con i nostri piatti tipici. Abbiamo degli antipasti, la rubiola con miele di acacia, mango e ribes. Nei primi piatti abbiamo i nostri ravioli di zucca con crema di zafferano e amaretti. Poi abbiamo i nostri filetti, che sono il nostro cavallo di battaglia, che sono con trugno e scalogno all'aceto balsamico o alla senape in grano. La nostra caratteristica, oltre al mangiare, è sicuramente la musica dal vivo. Questo grazie ai nostri fantastici musicisti, che fanno cantare, fanno divertire e fanno passare una serata sicuramente indimenticabile. Quindi per passare una serata veramente in allegria, dove ci può che sentire protagonisti, il nostro locale è sicuramente consigliato. Volevo fare un saluto con i miei amici di L'Opresto e vi aspetto a L'Opre78 per una serata di divertimento. Ciao! 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 Ciao!